Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Nello scorso video ho accennato alla possibilità di inserire all'interno di KDE alcuni elementi della vecchia interfaccia di Ubuntu, quella che si chiamava Unity. Vediamo di cosa si tratta. Allora, ecco, questa è Ubuntu Unity, nell'ultima versione. Andiamo a vedere quello di cui stavo parlando. Per esempio sul LibreOffice, qui in inglese ma non fa nulla, vedete dov'è il menu dell'applicazione? È dentro la barra del titolo. Questa era una delle impostazioni possibili con Unity. C'era anche la possibilità di mettere il menu nella barra superiore. Io trovavo particolarmente comoda questa feature. Guardate, vedete, si risparmia un sacco di spazio. Questi pixel che sono sempre utili in verticale, perché non averli? Perché non tornare a questo tipo di layout? Si può fare? Sì! Può! Fare! KDE può mettere il menu in tanti posti diversi. Per default il menu ovviamente è sotto la barra del titolo. Vediamo. Ecco qui. E come vedete c'è questa barra del titolo vuota e poi un menu che occupa la sua riga. E questo spazio è praticamente sprecato. C'è una possibilità, anzi due. Vediamo la prima. Se andiamo nelle impostazioni e cerchiamo decorazione delle finestre. E vediamo che andiamo su pulsanti nella barra del titolo. E trasciniamo questo menu dell'applicazione qui. Anzi, così. Facciamo applica. E quello che succede a questo punto è la cosa seguente. Il menu si sposta effettivamente nella barra del titolo. Però è un po' scomodo così, perché c'è solo questo pulsante. Si può fare di meglio? Sì, vediamo come. Conosco ogni millimetro di quel sistema. Farò tutto quello che va fatto. Abbiamo bisogno di installare un tema per la decorazione delle finestre particolare. E che però non è presente nei repository ufficiali né di Mangiaro né di Arch. Per questo lo andiamo ad installare da Aura. Vediamo. Si chiama Material. Questo. Material. Che win. Eccola qua. Materia, che win, decoration, git. Installiamo. Io adesso però solo aggiorno, perché ce l'avevo già installato. Perfetto. E l'abbiamo installato. A questo punto, torniamo nella decorazione delle finestre. Tra i temi ci troveremo Material. Perfetto. E qui abbiamo tante possibili opzioni. Intanto lo attiviamo. Vediamo che cosa succede. Applica. E tac. Come vedete, il menu si è andata a posizionare dentro la barra del titolo. Ci sono delle opzioni in più, che qui potete vedere. Si può mettere il titolo al centro, o a destra, dimensioni dei pulsanti, grandi, piccole, l'opacità. Il menu può essere sempre visibile, oppure visibile solamente mentre si scorre sopra la barra del titolo. Ad esempio, in questo caso, andiamo a vedere per Writer. Vedete, così non compare. Però se faccio così, tac. Ma io preferisco averlo sempre visibile. Ne mettiamolo sempre visibile. Le animazioni, le ombre, eccetera. Il menu è andata a barra del titolo, io lo rimetterei al centro, qualche tanto. Va bene. Ok. C'è una tendenza, ormai, il dentro che di, come si, come in GNOME, di eliminare il menu, ma io trovo che il menu tradizionale sia ancora, probabilmente, uno dei modi migliori per interagire col computer. Salve, computer. L'interfaccia grafica. Ecco, insomma, come vedete, è molto più elegante, si risparmia un sacco di spazio, e soprattutto funziona benissimo. Assolutamente. E funziona su tutte le applicazioni, almeno tutte quelle che hanno un menu. Ad esempio, anche Gimp. Anche lui. C'è il suo bel menu. Ok. Quindi, a prescindere dal fatto che un'applicazione sia scritta con Qt, se sia di Kedi, se sia invece Gtk, se sia di GNOME, funziona con tutte le applicazioni che hanno un menu. ne vediamo un'altra, tanto per gradire, ocular. Ecco, anche lui. C'è il suo bel menu. Ne vogliamo vedere un'altra. La console. È assolutamente indispensabile avere il menu nella console. Anche se chi di Kedi lo ha tolto. In Dolphin, anche Dolphin, avrebbe il suo menu, ma che è sparito, sostituito da questo hamburger menu. E invece, così, possiamo averlo di nuovo. E ora qualcosa di completamente diverso. Ma c'era anche un'altra feature di Unity, molto, molto interessante. Adesso siamo dentro LibreOffice, vediamo. E io volevo mettere il... tutto questo ciao in maiuscoletto. Mmm... Come si fa? Eh, forse dentro format... Forse... Mmm... Non mi ricordo. View... Non mi ricordo dove era, dove era, dove era questo... Menu... Accidenti. Ah, però... c'era Had. C'era Had. Sì. Guarda un po'. Allora io cerco... A per Case. U per Case. U. 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 Accidenti. E così si poteva fare anche con qualsiasi altra funzione. Vogliamo... Power Case. Ed è tornato a minuscolo. Ma perché? Dove prende questi comandi il desktop? In realtà sono semplicemente i comandi che ci sono nel menu, che vengono esportati verso il processo dell'ambiente desktop. Infatti stanno qui. Andiamo a vedere... Format... Oddio. Dove stavano? Ecco. Format Text. Guardate. Upper Case. Lower Case. E sono queste qui. Non si sta inventando nulla. Sta solo prendendo le voci di menu che sono già dentro LibreOffice. Questo valeva per qualsiasi applicazione. Ad esempio. Ecco. File. Benissimo. Qui ci sono i file. Adesso io non... Voglio cercare una voce qui nel menu. Per esempio. Che ne so. Select All. Ecco. Non mi ricordo come si faceva a selezionare tutto. Che faccio? Faccio così. Poi scrivo. Seleziona tutto. Select All. Oh. Accidenti. Ha selezionato veramente tutto. Comodissimo. Allora. Ma dove? Come possiamo riavere questa funzione in KDE? Guardiamo. Allora. Torniamo su Octopi. Selezioniamo Hour. E cerchiamo App Menu. Abbiamo vari pacchetti. Quello che ci interessa è questo qui. Plasma Keyrun App Menu Git. Noi installiamo. Io faccio la installa perché già ce l'ho installato. Tanto per farvi vedere. Sì. Benissimo. E l'abbiamo installato. Dopodiché apriamo Keyrunner con Alt F2. E vediamo se c'è da attivare qualcosa. Neanche me lo ricordo. Eccolo qui. Application Menu. C'è da attivare questo qui. Bene. E' già attivo. Quindi lo lasciamo così com'è. E a questo punto dobbiamo associare un tasto all'attivazione del Keyrunner. Per questo dobbiamo andare sulla pagina hour di quel pacchetto. Che si chiamava Keyrunner App Menu. Io cerco App Menu. Eccolo qui. Plasma 5 Runner App Menu Git. Andiamo a visitare il sito dove c'è la stringa da inserire. E qui ce lo indica. Ecco. Questo è il comando da dare. Copiamolo. E lo inseriamo in console. Io ovviamente ce l'ho già dato. Questo che permette di fare? Che permette di attivare il Keyrunner solo con quelle impostazioni. Cioè con la ricerca del file delle voci di menu. Attraverso la semplice pressione del tasto Alt. Vi dico subito che con LibreOffice è un po' lentuccio. Prima di. Perché è un grande menu e quindi se lo deve caricare. Ci mette qualche secondo dopo l'avvio. Io l'ho avviata prima. E allora io voglio fare tutto maiuscolo il Ciao. Come nell'esempio precedente. Premo Alt. E scrivo. Maiuscolo. Tac. Ed è diventato maiuscolo. Ovviamente funziona con tutte le applicazioni. Mi basta premere Alt. Faccio. Seleziona. Seleziona. Tutto. Perfetto. Modifico. Seleziona tutto. E mi ha selezionato tutto. E quindi praticamente non ho più l'esigenza di ricordarmi dove stanno le voci del menu. Dobbiamo cercare con il tasto Alt. Forse ci metterà qualche secondo anche in questo caso. A caricare tutte le voci. Però diciamo che io non so. Non ricordo come si arriva alle preferenze. Va bene? Allora premiamo Alt. Scrivo. Pre-serenze. Pre-serenze. E mi escono le preferenze. Insomma non è perfetto. C'è qualche bug. Ma quasi sempre funziona. Ed è di una grande, grande, grande comodità. Bene. Il video finiva qua. Io vi saluto. E alla prossima. Ciao. Ciao.